Bluebird Industries, non solo settore giardino, ma anche forestale. Ecco il nuovo ed esclusivo verricello portatile VA1224. Maneggevole e compatto, è l'attrezzo pensato e strutturato per il boscaiolo professionista, che trova nel VA1224 il completamento del proprio parco macchine per far fronte alle più svariate esigenze nei boschi. Ideale e accessibile anche per il privato che si presta al fai-da-te. Infatti questo verricello è la misura ideale per chi ha la necessità di operare nei boschi senza l'ausilio di grosse macchine da lavoro. VA1224 permette di movimentare oltre 100 quintali di legname al giorno in qualunque situazione di terreno, grazie all'esiguo peso e il facile riposizionamento dello stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non solo per il bosco. VA1224 copre un innumerevole numero di altre applicazioni, dalla messa in tensione di funi, reti, teli, al carico e scarico di barche, auto e merci in genere.